L'AREV, Associazione Allevatori Valdostani, vi consiglia di portare sulla vostra tavola carne valdostana, bovina e ovicaprina. La carne valdostana proviene da allevamenti selezionati, è buona, garantita e certificata dall'Associazione Allevatori Valdostani. E ricordate, la carne valdostana è meglio! Progetto di valorizzazione della carne valdostana, finanziato dal FEASDR PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Grazie per la visione!